Il gruppo Romaco, con la sua sede italiana, negli ultimi anni ha registrato un'importante crescita del proprio fatturato, richiedendo inevitabilmente l'ampliamento del proprio stabilimento, fino a raddoppiarne la superficie complessiva. Il nuovo headquarter di Romaco si sviluppa su una superficie di 15.000 m2 circa, suddivisa in tre blocchi, produzione, logistica e direzionale. Tutti spazi progettati con grande attenzione per la sostenibilità e la compatibilità ambientale, secondo i principi cardine del gruppo Romaco e in piena sintonia con la filosofia Blue Way di Trezansom. Uno dei pilastri fondamentali, degli investimenti fondamentali è stata appunto la progettazione e costruzione di questo nuovo stabilimento. Siamo arrivati alla conclusione, siamo stati molto soddisfatti. Gli spazi direzionali con il loro nuovo layout uffici sono stati l'occasione per ottimizzare i workflow aziendali e riorganizzare i team di lavoro, con un'attenzione particolare verso il comfort acustico e il benessere dei propri dipendenti. Trezansom ha fornito per Romaco i servizi di project e construction management in stretta sinergia con il top legend di Romaco per raggiungere non solo gli obiettivi di costi, qualità e tempi, ma anche per adeguare i propri obiettivi strategici al contesto in continua evoluzione. Trezansom ha inoltre affiancato Romaco durante l'intero processo con attività di procurement per le forniture di interfaccia con il cantiere, assistenza al commissioning impiantistico e monitoring per la fase di snacking. Con Trezansom posso dire che abbiamo avuto un rapporto molto aperto e molto trasparente. appunto ha un'esperienza consolidata in cantieri di respiro internazionale, quindi penso che sia stato proprio vincente avere scelto questo partner proprio perché è particolarmente basato, allineato alla nostra tipologia e dimensione di azienda. e il supporto diciamo di Trezansomers e in particolare di Andrea Trucillo che vorrei ringraffiare qua direttamente, il project manager appunto che ci ha seguito come Trezansomers, ecco ha fatto sì che siamo riusciti ad arrivare a questo punto e realizzare questo stabilimento che nell'area di Bologna è probabilmente oggi l'investimento industriale più importante che è stato realizzato. La completa sintonia instaurata tra Trezansomers e il cliente nel caso di Romaco è risultato essenziale per raggiungere gli scopi del progetto, per far fronte anche alle criticità dell'emergenza pandemica e a tutti i fattori di rischio esterni al progetto. In queste fasi particolarmente critiche Trezansomers ha intensificato ancora di più il suo impegno supportando Romaco in un'attività di change and risk management, agendo di fatto come un vero e proprio partner nel progetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!